Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Oggi siamo in uno scenario particolare. Come ospite c'è Carmine Caputa, avvocato di Ricusati, impegnato sia nella scorsa campagna elettorale comunale, ma anche come Centopassi. Insomma, sei politicamente sensibili e di non cadere nelle polemiche, ma da portare comunque un contributo di confronto, di nuove idee. Quindi si fa quel che si può. Ok, Carmine, non a caso noi siamo sul Ciglioto, qua siamo nella curva che noi chiamiamo l'Armory Gallini, perché poi anche dopo magari si farà vedere tutto lo scenario della Valle del Mingardo, del Castelluccio di Ricusati. E non a caso siamo appunto sul Ciglioto, perché c'è stata una petizione dell'Associazione Ricusati Centopassi, che ripeto, anche tu ne fai parte, dove noi abbiamo convocato un consiglio comunale che purtroppo è stato disatteso. Sì, diciamo che questo è un po' emblematico quanto è successo al Comitato Centopassi, avendo chiesto la petizione, ma la nostra petizione, e tu puoi confermare, non era sicuramente a modo di polemica, ma semplicemente anche a supporto della nostra istituzione, del nostro comune. La strada del Ciglioto qui ha una sua storia da anni martoriata, quindi è l'emblema del fallimento della politica, delle politiche di destra, delle politiche di sinistra che si sono succedute e alla regione e nella provincia di Salerno. Sicuramente è così, infatti la petizione è uno strumento di democrazia, che praticamente serve per stimolare la soluzione del problema, non per andare contro. Esattamente, ma è anche un modo per sensibilizzare l'animo delle persone su aspetti politici che ognuno di noi con la chiusura del Ciglioto oggi tocca con mano. Io personalmente, per raggiungere il Tribunale di Vallo, i chilometri si sono quasi raddoppiati, quindi un costo maggiore per chi si rega al lavoro. Ma tra l'altro la strada del Ciglioto abbraccia una fetta importante dell'economia di Ligusati. Abbiamo Uliveti, ci sono Pascoli, appunto nominavamo il Castelluccio che è il luogo dove Ligusati si è sviluppato, poi dopo l'invasione Saracena abbiamo... Si è spostato. Diciamo, ecco sì, quindi il Ciglioto riveste un'importanza rilevante, ma per l'intero comune di Camerota, per Marina di Camerota soprattutto d'estate, perché potrebbe servire per concessionare il traffico, per chi appunto sceglie di visitare luoghi che non siano prettamente di mare, ma appunto addentrarsi più all'interno dei nostri paesi. Io definisco che questa strada è l'ingresso del comune di Camerota, ma anche un occhio sul Cilento. Si può capire benissimo facendo questa strada quello che è il Cilento. Sì, tra l'altro i rocciatori ci stanno lavorando, quindi presumibilmente la strada sarà riaperta da qui a qualche giorno. Però per fare un intervento un po' più concreto, un po' più definitivo, magari se ci fosse la possibilità per la piandumazione di alberi, che certamente poi gli incendi bisognerebbe dare, come dire, state attenti a non far incendiare, perché l'albero logicamente, come dire, protegge, non va a succedere delle frane. Giusto? Indubbiamente una riforestazione sarebbe importantissima, ma credo che prima di far questo bisogna mettere in atto delle misure preventive per quanto riguarda gli incendi, che comunque tutte le estate martorizzano la nostra zona, ma poi tra l'altro creano danni all'economia. Magari crea delle sentinelle, no? Sì, delle sentinelle, non lo so, anche dei semplici spartifuoco, ma perché no, anche delle telecamere, perché la deterrenza comunque è importante per la prevenzione dei reati, perché è un reato gravissimo comunque incendiare, quindi bisognerebbe mettere in atto delle misure restrittive e importanti. Io voglio tornare un attimo sul concetto, per chiarirlo un attimino meglio, no? Sul concetto del Consiglio Comunale e dello strumento che poi noi abbiamo usato, che non è la prima volta, tra l'altro, l'articolo 47, per la convocazione del Consiglio Comunale. E' la cosa che dà fastidio, che viene sempre vista come contro, no? Ecco, allora, quando in una comunità ci sono oltre 600 cittadini, ma ci siamo fermati perché ne potevamo, come dire, sicuramente prendere molte di più, molte più firme, quando comunque c'è una comunità che chiede la convocazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento, il sindaco è tenuto a far convocare immediatamente questo Consiglio Comunale, per una questione di democrazia. Certamente, lo dicevo prima, ma sarebbe anche un modo per coinvolgere maggiormente le persone, a sensibilizzarle sui problemi, perché oggi si parla del cigliotto, ma ci sono innumerevoli problemi risolti nel nostro comune. Poi il rispetto delle regole istituzionali, tra l'altro, sono alla base della democrazia, certamente. Non me ne vogliono, ma con questo atteggiamento possiamo dire a gran voce che la democrazia a Camerota è stata ulteriormente minata. Si fa del bullismo istituzionale, io ho usato questo tipo di parola, ma io penso che è bullismo istituzionale, soprattutto quando si convocano delle assemblee dove si pensa quasi a mettere a tacere una volontà popolare. Sicuramente la sicurezza è importante, però bisogna saper coniugare sia la sicurezza che la viabilità e l'apertura, perché chiudere è facile. I bisogni dei cittadini sono l'elemento primario di preoccupazione che un'amministrazione deve tener conto, deve tener presente. E la capacità poi di sapere trovare i soldi e i fondi per risolvere i problemi. Certo, c'è anche da dire che ad oggi chiunque avrebbe amministrato il comune di Camerota si sarebbe trovato di fronte ad un macello politico, non semplice sicuramente, ma questo non deve essere una scusante affinché continuiamo a restare impantanati. Comunque la petizione è stata depositata in comune, messa a protocollo il 28 febbraio, oggi ne abbiamo 13 o 14 di aprile e il consiglio comunale ancora non è stato convocato su questo argomento. Ripeto, è un aspetto che andrebbe chiarito, perché innanzitutto l'articolo 47 fa parte dello statuto comunale che come tutti gli statuti dei vari enti si preoccupano di dar voce anche ai cittadini perché può capitare che un'amministrazione, un amministratore preso dai tanti problemi è anche un modo per essere supportato e indirizzato dai cittadini. Un altro argomento che è all'ordine del giorno è questa questione della montagna, la promiscuità di questi terreni con il comune di Celle e Bulgaria. Il comune di Celle e Bulgaria ha fatto dei passi nei confronti del comune di Camerota per togliere questa promiscuità. Sì, allora io già sotto ad un tuo post tempo fa commentai, dico, visto che questo punto è stato, per così dire, votato all'unanimità in consiglio comunale, questo mi lascia maggiormente perplesso in merito al punto e al problema sollevato poi dai nostri agricoltori e pastori. Infatti io in maniera del tutto così di getto scrissi sotto ad un tuo post perché a questo punto non cedere al comune di Centola anche Cala del Cefalo perché poi magari, come battuta, ma questo per significare che il piano di cui oggi si discute per l'economia agricola di Licusati rappresenta un volano importantissimo, ma credo che già le svariate amministrazioni che si sono susseguite nel tempo ci abbiano provato a questo scioglimento. Ma dobbiamo dire, dare atto a chi ha preceduto l'attuale amministrazione, hanno rimandato al mittente nuovamente la proposta perché a questo punto oggi non si capisce il motivo per il quale debba essere sciolta questa promiscuità. Tra l'altro la storia dice che il comune di Licusati abbia acquistato con 400 ducati ulteriore terreno da parte del comune di Celle di Bulgaria. Ricordiamo poi tra l'altro che Licusati era comune, stato comune fino a 1929 o 27-29, posso sbagliare la data, comunque più o meno. Tra l'altro un comune prolifico, attivo, quindi già la storia ci ha traditi. Una frazione di Licusati era a Poderia. Esattamente. Era a Poderia e una frazione di Licusati. Ma io vorrei spiegare il motivo perché poi ho avuto contatti con i vari imprenditori agricoli, semplici pastori, perché si sono organizzati anche con un volantino tempo fa. Perché sembra che la parte oggi in promiscuità del comune di Celle di Bulgaria, che intende oggi sciogliere, sia la parte che abbia le infrastrutture maggiori. Ci sono dei rifugi, ci sono delle cisterne create dal parco del Cilento. Sciogliendo questa promiscuità queste infrastrutture finirebbero completamente nell'area di Celle di Bulgaria. Quindi i nostri agricoltori sarebbero veramente messi in ginocchio, diciamo così, da questa situazione. Oltre che loro quotidianamente comunque combattono con invasioni per quanto riguarda la Fida Pascolo, dai comuni limitrofi. Più volte abbiamo fatto istanze, per la verità ho preparato un'istanza per loro e il sindaco si è adoperato subito a dare comunicazioni alla Guardia Forestale, agli organi preposti. Però questo è un argomento che ad oggi credo che ci sia poco da discutere. Tra l'altro io faccio una riflessione, no Carmine? Poi mi dici cosa ne pensi. Il sindaco di Celle di Bulgaria fa questa delibera, ma se tu vuoi ragionare non fai la delibera. Perché tu praticamente mi metti il fatto compiuto. Quindi prima si ragiona con la gente e poi dopo magari si fa una delibera. Però poi tra l'altro non è che tu devi chiedere il parere solo per gli accusati, ma lo devi chiedere per le quattro frazioni. Perché la sete poi tra l'altro non può essere la col diretti per fare una riunione, ma deve essere il Consiglio Comunale o la consigliare, deve essere una cosa istituzionale. Cosa ne pensi? Diciamo che sicuramente il Comune di Celle Bulgaria è entrato per usare un eufomismo calcistico a gamba tesa in questa situazione, perché sarebbe stato molto più opportuno creare un tavolo di discussione dove si evidenziassero i pro e i contro di questo scioglimento. Ad oggi purtroppo la professione di avvocato che io svolgo mi porta a pensare e sempre a ragionare di vedere che cosa c'è dietro. Ancora credo che la campagna PSR non sia finita, quindi presumibilmente ci sia un'intenzione, ma comunque legittimi per carità, ma delle volte il modo di agire fa la differenza. Penso proprio di sì. Però Carmine, c'è ancora un'ulteriore riflessione. C'è stato vent'anni fa, venticinque anni fa, nel Comune di Camerota tutti quanti che correvano versi lì, dall'apertura dei lì sulla spiaggia, ma non è che c'è all'incontrario una corsa alla montagna? Beh, sicuramente forse per l'Icusati ad oggi l'agricoltura, la montagna in sé rappresenta una parte di economia importante e per certi versi forse anche più sicura rispetto a quello che è l'area marina, anche perché anche loro vanno incontro a problemi di erosione costiera, che nel corso degli anni non si è fatto nulla, non poco nulla, la spiaggia è ridotta ai minimi termini, fortunatamente la montagna per quanto riguarda l'erosione delle intemperie è molto più lenta e contenuta, quindi sicuramente si può sviluppare un'economia diversa. Un conto è uno sviluppo serio che porti ricchezza, un conto è invece poi andare incontro a uno sviluppo caotico che poi favorisca sempre delle speculazioni e non che sviluppi veramente né il paese né tantomeno la montagna, salvaguardando quello che poi devono essere i diritti dei pastori, perché io sfido a Mario Scarpitta a voler abolire magari la figura dei pescatori, ma in questo caso qua verrebbe abolita la figura dei pastori. Sì, sostanzialmente sì, ma io, guarda Gianfranco, punto soprattutto sulle difficoltà... Non solo a Mario, ma pure a Genomarotta, è una riflessione che faccio. Ma guarda, io credo che, semplicemente, voglio spezzare una lancia a favore della nostra amministrazione e anche dell'opposizione, che forse non avevano ben inteso quello che poi potevano essere e possono essere le conseguenze di questo scioglimento, di questa benedetta promiscuità, perché guardando la dinamica del Consiglio Comunale, non c'è stata alcuna discussione su questo punto e ho visto tutti i presenti, ahimè, alzare la mano, quindi per una votazione passata all'unanimità. Come se nulla fosse, insomma, senza magari andarsi né a leggere le carte, né meno ad informazioni. Sì, ma io ritorno... Ma sia dalla maggioranza, ma sia dall'opposizione, è stato un errore. Infatti io ritorno alla provocazione che feci sotto il tuo post. Cioè, noi stiamo regalando, perché poi ci sarebbe da valutare quale è effettivamente, fin dove si estende il territorio di Licusati, e stiamo regalando una fetta di torta importante al comune di Celle di Bulgaria. Quindi, ripeto, per Licusati, perché bisogna dar l'atto a persone che da nulla oggi sono cresciute a livello di azienda. Perché a Licusati si sta creando una bella realtà in questo senso. Sono diverse aziende. Allora, chi è attento, è sensibile ai bisogni di queste persone che con molta animosità... Tra l'altro ci sono persone che avevano un lavoro ben retribuito, tipo ci sono dei cuochi, ma cuochi non alle prime armi, hanno preferito puntare su... Comparsi delle pecore, degli animali. Esattamente, ma stanno puntando anche in quel senso su un prodotto di qualità. Perché ad oggi, prima nel nostro territorio trovavi formaggio in qualsiasi periodo. Io sfido oggi, chiunque a chiedere del formaggio a Licusati non ce n'è. Perché è un prodotto che comunque va... Soprattutto la ricotta è eccezionale. Io trovo la ricotta, secondo me, veramente... No, ma si stanno attrezzando anche per piccoli caseifici. Quindi stanno facendo dei sacrifici non indifferenti. Tra l'altro, il problema che loro evidenziano maggiormente è che nei momenti di magra, di vegetazione, loro esborsano di tasca propria a fior di migliaia di euro per far fronte, appunto, per da mangiare al bestiame. Quindi quella lì sarebbe una risorsa importante per questo. Un'ultima domanda, Carmine. Allora, qui noi parliamo di due realtà, Camerota e Celere-Bulgheria. Allora, se noi ci riflettiamo sopra, in tutto questo manca la cosiddetta visione, no? Da qui a 10, 15, 20 anni. E poi si finisce sempre, come dire, per litigare sulle piccolezze, no? Anche se è importante. Ora, la domanda è questa. Ma per risolvere questo tipo di problematiche, ma il Comune di Celere-Bulgheria e il Comune di Camerota, magari anche con quello di San Giovanni Appiro, dicendo, ma non è meglio se fanno una fusione? Se si fa una fusione dei comuni? Questa è la domanda. Cosa ne pensi? Sì, sarei favorevolissimo, perché sarebbe una fusione solo a livello istituzionale. Ogni territorio preserverebbe quelle che sono le peculiarità e le prerogative del territorio. Se il Comune è unico, non esisterebbe più il problema. Certo, ma poi tra l'altro un'unione dei comuni, in questo senso, permetterebbe anche di reperire maggiori fonti. Che è previsto già dalla legge. Che è previsto già dalla legge, quindi una miglioria dei servizi. E ovviamente sarebbe più facile sedersi e effettuare una programmazione a media scadenza. Penso di sì. Un'ultima battuta, Cammi? No, niente, ne approfitto per ringraziare te e Cilendo TV per l'invito. Mi rivolgo ai nostri compaesani, concittadini. Non dobbiamo aspettare che qualcuno ci rubi la pagnotta da sotto al naso per essere uniti e coesi. Bisogna recuperare quello che i latini definivano lo spiritus loci, cioè lo spirito proprio, il genus loci, mi chiedo scusa. Quindi proprio lo spirito del luogo. E Licusati, in questo senso, è stato sempre molto unito e coeso. Quindi noi saremo sempre dalla parte dei cittadini. In questo caso dei pastori. In questo caso dei pastori, ma proprio per innalzare il livello della discussione e per cercare il confronto. È un elemento fondamentale. Sì, io e te possiamo avere anche idee diverse, ma come diceva qualcuno che adesso non mi sovviene, io combatterò per la mia idea, ma darei quasi la vita finché anche tu possa esprimere la tua. Ok, grazie a Carmine Caputo e arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso.